La svolta che nessuno si aspettava prima del Grande Fratello 2024. Visita il sito gns247.net per seguire le ultime notizie. Il mondo del Weavadi show italiano subisce una svolta inaspettata proprio a pochi giorni dall'inizio della nuova edizione dell'asterisco Grande Fratello Asterisco. La trasmissione di punta di Canale 5, guidata da Alfonso Signorini, tornerà sugli schermi lunedì 16 settembre. Ma con una novità che ha già scosso i fan del programma. L'annuncio dell'eliminazione definitiva del GF Cody, un format molto apprezzato negli ultimi anni, ha fatto il giro dei social, lasciando molti appassionati delusi. Questo show, trasmesso esclusivamente online su Medias at Infinity, consentiva ad ex concorrenti e volti noti di commentare in diretta le dinamiche della casa, offrendo un punto di vista fresco e spesso ironico sugli avvenimenti più caldi del reality. Il programma, che nelle ultime quattro edizioni era stato condotto da personaggi del calibro di Enni Mazzola, Andrea Dianetti, Giulia Salemi e Soleil Sword, era diventato un appuntamento imperdibile per i fan più accaniti, che potevano seguire non solo la diretta televisiva ma anche interagire sui social. Ora, però, a sorpresa, la decisione di Mediaset di interrompere il format ha lasciato molti perplessi. Gabriele Parpiglia, noto giornalista e commentatore televisivo, ha confermato la notizia, pur specificando che non si tratta di un'informazione direttamente in suo possesso, ma appresa da fonti interne e diffusa sui social. In particolare, il profilo asterisco Televoti GF asterisco su X, ex Twitter, ha anticipato l'ufficializzazione dell'eliminazione del GF Party, scatenando un acceso dibattito tra chi vede in questa decisione una naturale evoluzione del programma e chi, al contrario, rimpiange il taglio di uno spazio che aveva saputo coinvolgere una vasta fetta di pubblico, soprattutto quella più giovane e interattiva. Alfonso Signorini, che ha preso le redini del programma ormai da diversi anni, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alla cancellazione del GF Party, ma l'assenza di questo segmento sarà senza dubbio percepita da molti spettatori, abituati a una programmazione parallela e multimediale che accompagnava la diretta televisiva. Mediaset, dal canto suo, non ha fornito motivazioni precise, lasciando molti dubbi sulle ragioni dietro questa scelta. Tuttavia, alcuni rumors indicano che la decisione potrebbe essere legata a una strategia di razionalizzazione dei contenuti digitali e di semplificazione del format. Nonostante questa rinuncia, l'attesa per la nuova edizione dell'Asterisco Grande Fratello Asterisco rimane alta. Quest'anno, il programma promette ulteriori sorprese e cambiamenti, tra cui nuove dinamiche e, probabilmente, una revisione della linea editoriale, come anticipato dagli addetti ai lavori. La curiosità del pubblico è alle stelle, anche perché il reality show si è dimostrato, anno dopo anno, capace di reinventarsi e di mantenere viva l'attenzione dei telespettatori. Non resta che attendere la prima puntata per scoprire quali altre novità il Asterisco Grande Fratello Asterisco 2024-2025 ha in serbo per i suoi affezionati seguaci. Tuttavia, la mancanza del GF Party segna certamente la fine di un'epoca per il format, aprendo interrogativi sul futuro della componente interattiva che tanto aveva caratterizzato il programma nelle ultime stagioni. Nonostante la delusione per la cancellazione del GF Party, il pubblico del Grande Fratello sembra pronto a rinnovare il proprio interesse verso la nuova edizione, che promette comunque di essere ricca di colpi di scena. Molti fan sperano che questa rinuncia possa essere compensata da nuove iniziative digitali o interattive, capaci di mantenere vivo il coinvolgimento degli spettatori. A pochi giorni dall'attesissima nuova edizione dell'Asterisco Grande Fratello Asterisco, l'entusiasmo dei fan è già alle stelle grazie alle prime immagini esclusive della casa che ospiterà i concorrenti. Situata nei Lumina Studios di Roma, la nuova dimora, con i suoi 1800 metri quadrati, rappresenta un vero e proprio gioiello architettonico, costruito seguendo rigorosi criteri ecosostenibili senza mai rinunciare all'eleganza e al comfort. Alfonso Signorini, conduttore storico del reality, aveva già accennato ai lavori in corso, ma ora finalmente le prime immagini svelano dettagli che fanno sognare. La nuova casa, come rivelato durante il programma Asterisco Pomeriggio 5 Asterisco condotto da Mirta Merlino, non solo è imponente, ma è stata progettata per far entrare la natura al suo interno. Un tema che si riflette nei numerosi elementi di design ispirati al mondo naturale. La grande piscina, l'ampio salotto dove si terranno le dirette con signorini, e gli arredi moderni e minimalisti creano un'atmosfera di lusso e tranquillità, ideale per i futuri inquilini. Le vasche presenti nei bagni, anch'esse in stile moderno, aggiungono un tocco di raffinatezza, mentre gli spazi comuni ricordano quelli della vecchia casa di Cinecittà, pur con evidenti aggiornamenti che rispecchiano le tendenze contemporanee. Ma non è finita qui. Ci sono ancora alcuni dettagli nascosti che saranno rivelati solo con la messa in onda del programma, aumentando l'attesa del pubblico. Con il debutto previsto per il 16 settembre, cresce la curiosità per scoprire ogni angolo di questa residenza esclusiva. L'edizione 2024-2025 dell'Asterisco Grande Fratello Asterisco promette di essere non solo un viaggio emozionante nel mondo dei concorrenti, ma anche un'esplorazione di uno spazio abitativo unico nel suo genere, che diventerà sicuramente il palcoscenico di storie indimenticabili. La nuova edizione del Grande Fratello non solo affascina per l'innovativa casa, ma promette di essere una delle più spettacolari di sempre. L'enorme curiosità dei fan è alimentata dalle piccole anticipazioni rilasciate dai media, ma ciò che davvero cattura l'attenzione è l'intreccio tra natura e modernità che caratterizza questa dimora. Il design eco-sostenibile e gli spazi luminosi sembrano pensati per creare un'atmosfera rilassata, ma al contempo stimolante, dove i concorrenti potranno vivere momenti intensi, tra alleanze, rivalità e colpi di scena. Non resta che attendere l'inizio per scoprire come questo ambiente influenzerà le dinamiche del gioco. Con l'avvicinarsi della prima puntata, l'entusiasmo cresce tra il pubblico, impaziente di vedere come i nuovi concorrenti si adatteranno a questa imponente e innovativa casa. L'integrazione della natura negli spazi interni non solo rappresenta un tema di attualità legato all'ecosostenibilità, ma potrebbe anche influenzare il comportamento dei partecipanti, offrendo loro un ambiente più sereno e rilassante rispetto alle edizioni precedenti. Tuttavia, nonostante la bellezza e la tranquillità apparente della nuova residenza, il Grande Fratello rimane un luogo dove le tensioni, le strategie e le emozioni forti sono inevitabili. Questa combinazione di novità estetiche e vecchie dinamiche di gioco potrebbe rendere l'edizione 2024-2025 una delle più avvincenti di sempre. La curiosità del pubblico non si limita solo alla struttura della casa, ma anche a chi saranno i nuovi inquilini pronti a entrare nel gioco. Alfonso Signorini ha promesso un cast variegato, con volti noti e sconosciuti, che daranno vita a dinamiche inaspettate e coinvolgenti.